qui ben tornato ora, grazie al Prime e Luca, grazie mille per i tre mesi sto usando Clubhouse in sti giorni per chi non sa cos'è Clubhouse, è tipo sta applicazione da adesso, è tipo un discord pubblico no? invitami merda, c'ho cinque inviti, potrei invita un po' di persone e... in poche parole la cosa che mi fa più ridere tutti è che ogni tanto mi trovo in delle stanze con... tipo l'altro giorno mi sono ritrovato in una stanza in una stanza con Karkutta con Marco Montemagno certo, certo Bise, Demette Bise Luis, Martin cioè... è questa la cosa che mi fa più ridere tutte che c'è gente random stavo in chiamata, c'è stava chi cazzo c'era Lara c'era Martin e il Masseo, stavamo così a chiacchierare a una certa entra Clementino entra fa... ma mi sentite è bellissimo questa applicazione spara un freestyle e se ne va ma Luca Paolo ha fatto piangere un'altra ragazza mandate clip Lara mmm pasta ah, sì di quattro mesi Flavietto festi, cazzini le tre mesi bello ben tornato tra l'altro prima era entrato Luis però là ce l'ho scammato che stavo... che stavo mutato stavo in intro quanto vorrei avere anche io una bella pelata come la tua questa? guarda tra l'altro non so perché col tempo ma se sta a macchiare lo vedete sta a fa... è i sui vecchi che gli escono le macchie marroni vabbè questo là è il mio obiettivo però boh prima non ce levo ste bolle e soprattutto cioè io questa roba se... non so tipo ci mette un'oretta mezz'ora per le basse mi inviti su Klaus mi chiede da da referenza da da saper di capelli precisamente qua uguale al tuo scroto